Restituiamo alla città un luogo in cui bambini e famiglie potranno vivere momenti di gioco, spensieratezza e relax. Così il sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi dopo il taglio del nastro a conclusione degli interventi di riqualificazione del Parco Pubblico Bonifacio in Via Taverne. Un restyling atteso da anni, con lavori che hanno riguardato il rifacimento dell'arredo, il rinnovo degli impianti idrico ed elettrico e della pubblica illuminazione, nonché la sostituzione degli alberi presenti con specie autoctone, che nel giro di qualche anno cresceranno e renderanno ancora più bello il Parco Pubblico Bonifacio, dove sono state installate anche nuove attrazioni ludiche che hanno sostituito le precedenti, ormai obsolete e pericolose. Grande soddisfazione per il primo cittadino Mutalipassi per il nuovo look del polmone verde della sua città, dotato anche di un nuovo impianto di videosorveglianza. Chiedo massima attenzione, massima cura, affinché lo stesso punto possa durare, possa essere goduto dai nostri bambini il più a lungo possibile. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti